Io sono Matteo, faccio parte del Lug di Venezia, lui è Francesco e anche lui fa parte con me del Lug di Venezia. Di cosa parliamo? Di quella che è l'alternanza scuola-lavoro. Che cos'è? Allora, la riforma è nata dalla legge Moratti, numero 10715 dell'articolo 1, che inserisce il regolamento all'obbligo alle scuole superiori e il triennio precisamente, partendo da quelli dell'anno scorso, che devono fare circa 200 ore alternate al mondo del lavoro. Di cosa possono parlare? Possono parlare di corsi professionali, oppure di essere inseriti all'interno delle aziende italiane per fare un'esperienza di quello che è il problema più grosso, di riempire il gap formativo tra quello che è il mondo accademico e quello che è il mondo del lavoro. Loro possono fare sia esperienza sul campo, sia formazione in aule professionali o corsi particolari fatti all'interno del proprio istituto. Qual è il problema? Il problema più grosso che loro hanno trovato in questo momento è che questa legge è applicabile a tutti gli istituti superiori. Dalla terza dell'anno scorso, quindi le quarte quest'anno, le terze di quest'anno che arriveranno, quindi potete immaginarvi il numero di ragazzi che loro si trovano a dover gestire al di fuori delle ore di istruzione. Queste ore sono 200 distribuite in tre anni e devono praticamente farli tutti i ragazzi. Tutti i ragazzi, potete immaginarvi, tutti gli istituti solo di Venezia ne hanno veramente una valanga, ma siccome è una legge italiana, tutti gli istituti di tutta Italia sono obbligati a fare questa cosa. Com'è nato? Cosa è successo? A noi è successo che un professore dell'istituto Zuccante ci ha chiamato dicendo che aveva intenzione di avviare un progetto con noi per poter far capire ai ragazzi che non esiste solo il lavoro fisso, ma esiste anche la possibilità attraverso l'open source di crearsi delle proprie attività e delle proprie possibilità di sviluppo, di carriera e così via. Cosa è successo? Siamo andati a parlare con i professori di questo istituto e ci hanno spiegato quali erano le loro necessità. Cosa abbiamo cominciato? Siamo messi insieme un attimino a parlarne e abbiamo cominciato a dire benissimo quali sono i destinatari. Gli destinatari sono tutti gli istituti tecnici, preferibilmente, perché non è che possiamo parlare con altri istituti particolari, per cercare di dargli quelle che sono le nostre materie, quelle materie informatiche e dargli delle idee di cosa possono fare e cosa non possono fare. È destinato a tutti gli studenti che partecipano all'alternanza scuola-lavoro del triennio. Oltre agli istituti abbiamo bisogno però di coinvolgere tutte quelle che sono le varie associazioni del territorio che promuovono questo che è l'open source. Noi siamo sicuramente un'associazione che fa questo, però niente ci esclude di poter chiedere aiuto agli ACLAB, agli altri luoghi del territorio e così via. Anche perché noi siamo in grado di coprire magari qualche istituto qua nella città di Venezia, ma non siamo certamente in grado di coprire tutti gli istituti di tutta Italia. Quindi abbiamo avuto anche interesse da parte di alcuni luoghi di Verona, alcuni luoghi di fuori, eccetera. Quali sono gli argomenti? Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preparato tutta una serie di argomenti e in accordo con i vari organizzatori di questi argomenti andremo negli istituti e creeremo delle conferenze per poter spiegare cosa sono, cosa sono i lavori e cosa vengono fatti. Non è detto che gli argomenti che noi abbiamo stabiliti siano quelli ufficiali, nel senso che se c'è qualcuno che ha qualche argomento che possa far parte di questi tipi di talk, di questi tipi di istruzioni, corsi, possono essere integrate all'interno. Quali sono i tempi? I tempi poi sono molto variabili a secondo di come noi vogliamo parlare con i ragazzi, come ci confrontiamo, come li coinvolgiamo durante quel tempo del talk. Allora, quali sono i percorsi? L'argomento base di tutto sarà per forza l'open source. L'argomento parlerà di cos'è l'open source, cos'è il free software, per cercare di distinguere un attimino queste due parole che molto spesso vengono un po' mischiate quando hanno proprio un significato completamente diverso. Secondo gli altri argomenti abbiamo previsto tutta una serie di argomenti diversi. Abbiamo definito un certo numero di quali vari argomenti possono essere l'argomento 1, parliamo del cloud, l'argomento 2 potrebbe essere la programmazione, il 3 potrebbe essere il SEO e la comunicazione, il 4 potrebbe essere lo yacht o internet delle cose, il 5 potrebbe essere la sicurezza, il 6 potrebbe essere il sistemista, il 7 il designer, quello che è il nostro scopo di un talk del genere è se qualcuno è interessato a pubblicizzare nella sua zona questo tipo di argomento, di progetto, noi siamo in grado di fornire tutte le slide, tutto il progetto scritto. Abbiamo bisogno anche nello stesso tempo di, come è già successo, che ci ha dato la disponibilità alcuni qua presenti in sala, di poter ospitare anche i ragazzi dai vari istituti per poter fare dell'esperienza all'interno del lavoro, eccetera. Se ci sono delle domande o avete qualcosa da dire, sono qua disponibili, siamo qua tutto il giorno all'ESC, quindi possiamo essere disponibili a consegnare, a dare materiale, eccetera. Se qualcuno vuole ricevere il progetto, siamo in grado, se voi ci date la vostra email, di inviarvelo via PDF, via ODF, come preferite, per poterlo presentare magari a qualche professore, a qualche presidente degli istituti della vostra zona. Se ci sono delle domande, se no vi ringrazio. I nostri contatti sono Matteo Serafini, Matteo su velug.it, oppure quello di Francesco, che è il CX velug.it. Ok? Grazie. Uno dei Linux user group in Italy. Noi siamo di tante associazione quando? Ok, prima noi eravamo una mailing list di amici che ci parlavano solo di Linux, di open source. Poi abbiamo cominciato a trovarci fisicamente in alcuni stabili che ci avevano messo a disposizione. Dopodiché abbiamo avuto problemi per la disponibilità di questi stabili. Ci siamo, abbiamo deciso di diventare associazione nel 2007. Nel 2007 siamo diventati associazione per un motivo di colloquio con le istituzioni, con il comune, eccetera, perché quando andavamo a chiedere delle stanze o qualcosa per poterci ritrovare, non avevamo, diciamo, una figura giuridica. Ci siamo creati l'associazione, siamo andati a parlare con le istituzioni e dopo un paio d'anni ci hanno concesso anche una stanza a uso gratuito dove noi teniamo tutta una serie di tolche e di corsi a basso costo. Basso costo significa che parliamo di 5 euro, 10 euro, tanto per prenotare il posto, dove spieghiamo Linux, LibreOffice, GIMP, quello che ci capita o ci viene chiesto. Ci sono altre persone di Vellog qua? In questo momento, beh, diciamo una cosa del genere. Ci sono persone che ogni tanto ci frequentano e vengono con noi, magari non sono iscritti all'associazione, ma noi siamo aperti a qualsiasi persona che viene, eccetera. Qui nel campo ce ne sono che girano del Vellog. Ci sono tante anche persone che fanno parte dell'ESC e che sono state anche prima come mailing list all'interno del Vellog. Comunque, se qualcuno è di Venezia e vuole darci una mano... Noi siamo disponibili, cioè noi siamo più che contenti di ricevere qualsiasi genere di aiuto. Ok, grazie. Se qualcuno vuole fare altre domande a livello dell'associazione, me lo chieda. Grazie. Grazie. Grazie.